In questo video voglio farti una panoramica generale dei materiali fondamentali che servono per l'acquerello, ma anche di alcuni accessori, così da sapere cosa ti serve per iniziare. Ho deciso di creare pian piano nel tempo una playlist con le basi per l'acquerello, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda le tecniche di base. Quindi sappiate che nei prossimi mesi vedranno la luce nel canale anche questi video. Visto che ho ricevuto diverse domande, diverse richieste da parte vostra e sono felice di poterle soddisfare. Ciao, sono Ilaria, sono un'artista, una storica dell'arte e ti do il benvenuto sul mio canale. Difficile quando si inizia a dipingere ad acquerello capire che cosa serve davvero e all'inizio si rischia anche di comprare qualsiasi cosa, sia perché non sappiamo esattamente cosa ci serve e sia perché si è presi dall'entusiasmo dell'imparare questa tecnica che è così bella e quindi abbiamo un po' questa voracità di comprare cose che poi magari non risultavano così necessarie oppure si rischia anche di spendere più del necessario, questo almeno nella fase iniziale. In realtà quando muoviamo i primi passi nella tecnica dell'acquerello ci serve solamente avere una buona carta, due, tre pennelli di tre diverse dimensioni, quindi uno piccolo, uno medio e uno grande e una buona palette di base per dipingere senza avere chissà quanti colori, anche solo una decina proprio con le palette base che alcune marchi hanno possono essere più che sufficienti. Poi pian piano che si impara, pian piano si scoprono varie tecniche, vari modi per ottenere determinati effetti allora si vanno a implementare anche altri materiali. Comunque in descrizione cliccate nella freccina sotto al video trovate un elenco, un piccolo elenco di consigli per gli acquisti per appunto i materiali base per darvi già un'indicazione di quello che vi può servire. Ad ogni modo iscrivetevi alla newsletter, il link lo trovate anche qua in descrizione perché presto voglio mandare ai miei iscritti alla newsletter un elenco molto più dettagliato di quelli che sono i miei materiali preferiti quindi mi raccomando non perdetevela, iscrivetevi, è gratuito e sono tutte informazioni in più che vi possono risultare utili. Ma adesso partiamo subito con questa panoramica dei materiali e poi ci rivediamo a fine video in cui tireremo un po' le conclusioni. Partiamo dalla descrizione di ciò che vedete su questo tavolo sembrano tanti materiali e in realtà un po' lo sono non è necessario averli tutti quando comincerai a dipingere ad acquarello magari avrai già alcuni di questi materiali in casa quando io ho iniziato a dipingere ad acquarello mi sono appassionata tantissimo e quindi nel tempo ho iniziato a comprare un po' a caso varie tipologie di materiali che però non ho usato immediatamente quindi capisco che a volte quando ci si butta in una nuova tecnica si tende a fare degli acquisti e magari non sono tutti necessari ma adesso vi descriverò piano piano tutti questi materiali e poi vi dirò anche cosa secondo me è necessario per partire. Diciamo subito che i tre materiali principali per l'acquarello sono i colori che possono essere di due tipologie quindi in tubetto oppure in godè queste in realtà sono dei demi godè cosa vuol dire? che sono delle mezze cialde poi ci sono anche dei godè di dimensioni più grandi quindi queste sono principalmente le due tipologie di colori poi nel mercato dell'acquarello sono stati lanciati tanti altri prodotti ma che non voglio mettere qui per non fare confusione perché non sono strettamente necessari io per esempio mi trovo benissimo con i demi godè con queste cialde solide in secondo luogo non possiamo fare a meno della carta e anche in questo campo l'industria delle belle arti ha veramente portato tantissime proposte interessantissime e si tratta poi di trovare il materiale che fa più per noi più che altro e tendenzialmente la carta la possiamo trovare in questi tre formati in album con questa parte collata che è molto importante che sia collata in modo tale che i nostri fogli di acquarello restino distesi poi ci sono gli sketchbook con carta proprio per acquarello e poi ci sono gli album di questa tipologia con la spirale qua vi ho portato tre esempi ma la carta per acquarello diventa anche molto conveniente se acquistata in foglie come in questo caso io ho acquistato un foglio della carta Amalfi da 250 grammi 100% cotone che in realtà non ho ancora usato e nel momento in cui individuiamo una carta che ci piace possiamo poi in alcune situazioni laddove la casa madre la propone acquistare un foglio di dimensioni maggiori e decidere poi di tagliarlo secondo quelle che sono le nostre esigenze secondo quello che noi vogliamo creare chiaramente la terza cosa che non può assolutamente mancare sono i pennelli io qua ne ho messe alcune tipologie ma sappiate che questo ovviamente è l'altro materiale che non può assolutamente mancare per dipingere e bisogna averne di buoni poi non può mancare lo scotch di carta sicuramente tra i nostri materiali da lavoro per l'acquarello io non posso farne a meno soprattutto se usiamo i fogli staccandoli dalla loro sede oppure se ritagliamo noi stessi i fogli e se non stiamo affrontando un soggetto piccolo e quindi non bisogna uso di troppa acqua bisogna fissare il foglio ad un piano rigido che può essere una tavoletta può essere anche il piano del tavolo per far sì che la carta non si increspi allora io spesso uso degli scotch di carta tradizionali da pittore deve essere un buono scotch e quando la si va a staccare bisogna fonare per andare a sciogliere la colla dello scotch e per non andare quindi a strappare il foglio a volte utilizzo dei washi tape ma non sono tutti molto forti nel tenere la carta alcuni sono di maggiore qualità e tengono molto bene la carta altri invece no quindi spesso preferisco utilizzare questo tipo di scotch di carta cercatene uno abbastanza delicato oppure si può anche decidere di prendere e fargli perdere un po' di colla attaccandolo e staccandolo su una superficie prima di utilizzarlo per il nostro dipinto invece washi tape spesso sono una mia scelta personale perché mi piace tantissimo abbinarli ai dipinti che sto realizzando magari anche se sto creando un video per youtube o per qualcos'altro o per semplicemente fare delle foto a volte abbino il washi tape con l'illustrazione stessa un altro materiale di cui io faccio spesso uso è il masking fluid che è il liquido di mascheratura il masking fluid è fondamentale per lasciare delle zone bianche ci sono in vari formati c'è per esempio in penna oppure c'è colorato io utilizzo questo della unizio di Newton mi sono sempre trovata bene ma ci sono tante offerte sul mercato un altro oggetto che utilizzo spesso per l'acquarello sono queste palettine di ceramica ci sono di varie tipologie di vario formato possono essere anche artigianali questa è la più tradizionale che si trova un po' dappertutto questa invece ha degli scomparti rettangolari e io la trovo molto comoda poi ci si può sbizzarrire con altri acquisti queste per esempio sono artigianali le possiamo anche fare da soli ma senza per forza acquistare questo tipo di prodotti possiamo semplicemente prendere un piatto bianco di ceramica e iniziare a mescolare i nostri colori lì non dimentichiamoci che spesso nelle palette di acquarelli come questa ci sono degli spazi accessori dove è possibile mescolare i nostri colori però questa non è la mia prima preferenza perché i colori tendono un po' a scivolare in un modo strano in un modo che non mi piace mentre le mescolanze trovo che vengono molto meglio nelle palette di ceramica ma comunque se ci troviamo in viaggio o comunque se ci serve ulteriore spazio e abbiamo a disposizione una palette come questa usiamola assolutamente ma il mio consiglio resta comunque la ceramica perché una gomma una gomma oppure una gomma pane secondo me sono degli strumenti utilissimi da usare quando dobbiamo rimuovere il masking fluid non dimentichiamoci poi due contenitori per l'acqua questi sono dei semplicissimi contenitori da riciclo quelli non so per lo yogurt oppure per le conserve è sempre bene averne due per quale motivo averne due perché una resterà sempre pulita e terremo il nostro pennello pulito e con l'altra invece andremo a sciacquarlo quindi l'acqua diventerà dei colori che stiamo utilizzando inoltre dei panni assorbenti quindi come la carta scottex va benissimo e io spesso uso invece dei fazzoletti di cotone anche questo è molto utile quando stiamo dipingendo ad acquarello magari per riportare alcune zone di luce andando a rimuovere il colore anche questo materiale che ti consiglio di non far mancare sul tuo tavolo da lavoro ed eccoci alle conclusioni di questo video come avete potuto vedere non ho consigliato nessuna marca specifica nessun prodotto in particolare troverete comunque un piccolo elenco di prodotti consigliati nel link in descrizione è la mia pagina di affiliazione con il negozio online Momarte quindi date un'occhiata per vedere un po' cosa uso io e iscrivetevi alla newsletter come vi ho detto all'inizio dove manderò questo elenco molto più specifico e dettagliato credo che comunque ognuno di noi con il tempo con l'esperienza trova i propri materiali preferiti in base al proprio modo di lavorare quindi c'è chi preferirà una carta più giallina piuttosto che una carta più bianca chi amerà di più certe tipologie di acquarelli rispetto ad altri questo dipende molto dal proprio modo di lavorare ma è qualcosa che si va a scoprire nel tempo quindi scoprire che sicuramente i vostri marchi preferiti chiaramente mi rivolgo a chi sta iniziando e per chi invece già lavora da un po' di tempo con la tecnica dell'acquarello mi farebbe piacere sapere quali sono i vostri prodotti preferiti se vuole scrivermelo nei commenti sono molto curiosa in generale si procede un po' per tentativi ed errori prima di trovare i propri favoriti però certamente sono sicura che ricevere dei consigli da chi ci è già passato può sempre essere utile spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile in tal caso lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i successivi video io intanto vi lascio qui altri due video vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao